ogni colpo mortale le rimbombò nel fro ogni colpo mortale le rimbombò nel profondo della testa come un pesante martello battuto più volte contro un asse di legno terribile nella sua irrevocabilità ma non completamente sgradevole perché pensato perché se lo meritano uccidono i ragazzini e altrimenti non si sarebbero fermati peccato che den dov'è il corvo dov'è il corvo finalmente l'amico la sentì grazie a dio scorse il winnebago lui credeva che il corvo fosse lì dentro e forse aveva ragione però ritornò in fretta nell'atrio spiando da una delle finestre accanto alla porta d'ingresso il marciapiede era deserto ma il camioncino del signor freeman era parcheggiato al solito posto non riuscì a vederlo in faccia per colpa dei riflessi del sole sul parabrezza parabrezza non riuscì a vederlo in faccia per colpa dei riflessi del sole sul parabrezza ma lo scorse dietro il volante tutto filava liscio pensato probabilmente 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 non mi piace ma secondo me non è suo secondo me è sempre del narratore tutto filava liscio probabilmente pensato Abra ci sei? Den che bello sentire la sua voce le sarebbe piaciuto che fosse con lei ma averlo dentro la testa andava bene lo stesso pensato sì buttò un'ultima occhiata al marciapiede vuoto e al pick up di billy giusto per rassicurarsi si accertò di avere chiuso la porta chiave dopo essere entrata e fece per tornare in cucina pensato la mamma della tua amica deve chiamare i poliziotti e avvertirli che sei in pericolo perché Corvo è ad Enniston si bloccò a metà strada alzò la mano cominciando a stropicciarsi le labbra per non perdere la calma Den Den non sapeva che aveva lasciato casa Dean e come avrebbe potuto era stato parecchio occupato pensato non sono più bambina non sono prima di arrivare in fondo alla frase la voce di Rosel rimbombò assordante rimbombò prima di arrivare in fondo alla frase la voce di Rosel rimbombò assordante nel cervello spazzando via il resto dei pensieri brutta buttanella che cosa hai fatto? il familiare corridoio tra la porta d'ingresso e la cucina iniziò a scivolare via l'ultima volta che era salita su quella specie di piatto girevole non era stata presa la sprovvista in quel caso fu diverso provò a fermarlo ma non ci riuscì la casa era sparita insieme con l'intera Enniston era sdraiata a terra lo sguardo rivolto al cielo si rese conto che la perdita di quei tre a Cloud Gap aveva sconvolto Rose e per un attimo ne fu terribilmente estasiata cercò all'impazzata qualcosa con cui difendersi non aveva molto tempo il corpo di Rose era steso tra le docce e l'Overlook Lodge 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 sì ma la sua mente si trovava nel New Hampshire impegnata a mettere a ferro e fuoco il cervello della ragazzina ad aspettarla non c'era più il sogno ad occhi aperti di una guerriera con uno... ad aspettarla non c'era più il sogno ad occhi aperti di una guerriera con uno stallone e una lancia no signore lo scontro era tra una marmocchia frastornata e la vecchia Rosi assetata di vendetta l'avrebbe uccisa solo se obbligata per lei valeva troppo ma voleva darle un assaggio di che cosa l'aspettava una piccola anteprima di quello che gli amici della donna avevano già patito le menti dei bifolchi abbondavano di le menti le menti dei bifolchi abbondavano di punti delicati e vulnerabili e lei li conosceva la perfezione uno per un... ok questa è la bambina vattene via maledetta no maledetta stronza vattene via maledetta stronza lasciami in pace e ti massacro fu come se una granata stordente le fosse esplosa dietro gli occhi Rose sobalzò con un grido grande mo che si era chinata a sfiorarla si drizzò per la sorpresa il capo del nodo manco si accorse della sua presenza aveva nuovamente sottovalutato i poteri della nemica si sforzò di restare aggrappata al cervello della ragazzina ma l'altra la stava spingendo fuori era un dato di fatto incredibile era un dato di fatto incredibile irritante e spaventoso ma assolutamente vero come se non bastasse si sentiva le mani alzarsi verso la faccia se è di tappo e mo non l'avessero bloccata forse la mocciosa l'avrebbe costretta a cavarsi i bulbi oculari per il momento decise di arrendersi e ritirar per il momento decise di arrendersi e ritirarsi un attimo prima di squagliarsela però notò un particolare attraverso gli occhi della ragazzina che la riempì di sollievo una siringa stretta nel pugno di papà corvo Abra usò tutta l'energia psichica a propria disposizione più di quando si era messa sulle tracce di Brad Trevor più che nella sua intera vita e le bastò a malapena proprio mentre proprio mentre si stava convincendo che non sarebbe riuscita a contrastare la donna con il cappello si concentrò al massimo e il mondo ricominciò a vorticare proprio mentre si stava convincendo che non sarebbe riuscita a contrastare la donna con il cappello si concentrò al massimo e il mondo ricominciò a vorticare su se stesso era faticoso tipo spingere un'enorme ruota di pietra il cielo e i volti che la fissavano si volatilizzarono a seguire un attimo di tenebra e lei si trovò in mezzo nel nulla ma poi riapparve l'atrio di casa peccato che non fosse più sola un uomo si stagliava sulla soglia della cucina pensato no non un uomo un corvo ciao abro no è più giù ciao abro la salutò lui con un sorriso con un sorriso ok sorridiamo ciao abro la salutò lui con un sorriso balzandole addosso ancora indebolita dalla battaglia con rose la ragazzina non tentò di scagliarlo lontano con la forza del pensiero ma si voltò e scappò via nei momenti di massima tensione Dan Torrance e papà corvo erano molto simili anche se non l'avrebbero mai scoperto il membro del nodo fu colto dallo stesso senso di estrema nitidezza dall'impressione che tutto si stesse placidamente svolgendo al rallentatore cani vide il braccialetto di gomma rosa rosa sono diventato pugliesi rosa vide il braccialetto di gomma rosa scalone cazzo erano stati zitti per mezz'ora però forse non si sentono o poco e la mosca ancora gironzola in questa stanza che poi è grandicella questa stanza perché stare sopra il mio tablet con cui sto filmando questo video nei momenti di massima tensione Dan Torrance e papà corvo erano molto simili anche se non l'avrebbero mai scoperto il membro del nodo fu colto dallo stesso senso di estrema nitidezza dall'impressione che tutto si stesse placidamente svolgendo al rallentatore vide il braccialetto di gomma rosa intorno al polso sinistro di Abra e trovò il tempo di pensare pensato lotta per il tumore al seno lotta per il tumore al seno notò lo zainetto sbandare a sinistra mentre lei svoltava a destra intuendo che era carico di libri non gli mancò neppure l'occasione di ammirare i suoi capelli che la seguivano come una cometa brillante la chiappò vicino alla porta mentre cercava di girare il pomello della serratura quando le serrò la gola con il braccio sinistro strattonandola all'indietro percepì i suoi primi tentativi di spingerlo via con il potere della mente deboli e inefficaci pensato non tutto il contenuto della siringa rischierebbe di ucciderla peserà al massimo una cinquantina di chili le conficcò l'agua appena sotto la appena sotto le conficcò l'agua appena sotto la clavicola mentre lei si dimenava e ribellava non si sarebbe dovuto preoccupare di esagerare iniettandole l'intera dose non si sarebbe dovuto preoccupare di esagerare iniettandole l'intera dose perché Abby sollevò il gomito sinistro colpendogli la mano la siringa schizzò via rotolando sul pavimento ma la provvidenza aiuta il nodo piuttosto piuttosto ma la provvidenza aiuta il nodo piuttosto che i bifolchi era stato sempre così e si rivelò vero pure in quella circostanza il piccolo quantitativo di narcotico era bastato corvo sentì la presa sulla sua mente allentarsi per poi cedere completamente le dita della ragazzina si rilassarono mentre lo fissava con uno sguardo perplesso e trasognato l'uomo le sferrò una pacca sulla spalla andremo a farci un giretto Abra incontrerai nuovi e divertenti amici per quanto incredibile lei riuscì a sfoderare un ghigno piccola curiosità random da noi in Sardegna o forse solo nel circondario di Cagliari non lo so il ghigno mi fa sempre ridere perché da noi per dire ghigno cioè la parola ghigno non vuol dire solamente il ghigno ma vuol dire il gesto del dito medio e ho scoperto che solo da noi cioè nel resto d'Italia non nessuno lo chiama il ghigno lo chiamano il dito medio e da noi lo chiamiamo il ghigno quindi mi fa sempre ridere quando leggo riuscì a sfoderare per quanto incredibile lei riuscì a sfoderare un ghigno cazzata una smorfia una smorfia piuttosto terrorizzante almeno per una mocciosa in grado di passare per un maschio se si fosse raccolta i capelli sotto un berretto se si fosse raccolta i capelli sotto un berretto quei mostri che chiami amici sono morti sono tu le ultime parole si confusero in un guazzabuglio mentre le iridi sparivano nelle orbite e le cedevano le gambe papà fu tentato di lasciarla cascare a terra le sarebbe servito di lezione ma si trattenne e la ferrò per le ascelle dopo tutto era un bene di valore un bene del nodo Corvo si era introdotto in casa dalla porta di servizio aprendo l'inutile serratura a scatto con un rapido colpetto verso il basso dell'American Express Platino andiamo più o più lenti aprendo l'inutile serratura a scatto con un rapido colpetto verso il basso dell'American Express Platino intestata a Henry Rothman però non aveva intenzione di uscire da lì da quella parte si trovava solo un'alta recinzione ai piedi di una scarpata e poco oltre il fiume e c'è un aereo però forse siamo fortunati non sta passando qui su a posto tra l'altro il suo mezzo di trasporto era sul lato opposto trascinò Abra dalla cucina la rimessa deserta forse i genitori erano al lavoro o magari a Cloud Gap impegnati a godersi lo sterminio di Andy Jimmy e Nocino al momento non gli infregava un cazzo di quell'aspetto della faccenda chiunque avesse aiutato la ragazza avrebbe potuto aspettare in ogni caso sarebbe presto giunta la sua ora infilò il corpo esamine di Abra sotto il bancone da lavoro del padre su cui erano appoggiati un paio di attrezzi poi premette il pulsante della porta del garage e uscì con stampato in faccia il caro vecchio sorrisone alla Henry Rothman il vero segreto per sopravvivere nel mondo dei bifolchi stava nel mescolarsi a loro come se fossi come se ti fossi sempre alzato con il piede giusto e nessuno ci riusciva meglio di lui raggiunse di buona lena il pick up e spostò il vecchio bacucco in mezzo al sedile mentre imboccava il vialetto degli stone la testa di Bigli gli si appoggiò alla spalla stiamo diventando papaciccia eh nonnetto ridacchiò Corvo entrando nella rimessa con il camioncino rosso i suoi amici erano morti e la faccenda si stava facendo terribilmente rischiosa ma esisteva un enorme vantaggio da secoli non si sentiva così vivo e scattante con il mondo che esplodeva di colori e vibrava tipo un diapason Cristo l'aveva presa ci era riuscito nonostante i suoi strani poteri e i suoi odiosi giochetti e l'avrebbe consegnata a Rose una specie di pegno d'amore tombola tombola esclamò esultante sferrando un pugno sul cruscotto sfilò via sferrando un pugno sul cane scherzo io adoro gli animali però come quelli che dicono io non sono razzista però che se ne stiano a casa loro io sono un grande amante dei cani però che non abbaglino quando sto registrando sfilò via lo zainetto di Abra lasciandolo sotto il bancone da lavoro da lavoro sfilò via lo zainetto di Abra lasciandolo sotto il bancone da lavoro 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 ah era giusto lavoro però forse l'ho chiuso a troppo lasciandolo sotto il bancone da lavoro e trasportò la ragazzina sul sedile del passeggero strinse la cintura di sicurezza intorno ai due prigionieri che ronfavano della grossa gli era venuto in mente di spezzare il collo del nonnetto e abbandonarne il cadavere nel garage ma forse quel tipo gli sarebbe tornato utile a patto che il sonnifero non lo stecchisse gli sfiorò il collo rugoso alla ricerca di un battito che trovò subito lento ma forte la mocciosa era a posto il suo fiato apannava il finestrino a cui era appoggiata perfetto papà corvo impiegò un secondo per un s avete sentito quella s quella dei vecchietti papà corvo impiegò un secondo per un piccolo inventario papà corvo impiegò un secondo un s io odio la s che scibila papà corvo impiegò un secondo per un piccolo inventario niente pistola il vero nodo non viaggiava mai con armi da fuoco ma due siringhe piene di liquido per fare la nanna forse non gli sarebbero bastate bastate questo era sardo bastate forse non gli sarebbero bastate ma comunque Abra veniva prima di tutto forse si sarebbe dovuto sbarazzare presto del vecchio oh 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 cani oh pazienza i bifolchi andavano e venivano tirò fuori il cellulare per chiamare Rose la donna rispose proprio mentre lui si stava rassegnando a lasciare un messaggio le frasi le uscivano lente e strascicate gli sembrava di parlare con un ubriaco Rosie che ti succede? la ragazzina lente e strascicate tipo ubriaco ok la ragazzina la ragazzina mi ha contato peggio del previsto ma sto bene non riesco più a captarla dimmi che l'hai catturata si e adesso si sta sparando un sonnellino ma forse stanno arrivando i suoi amici non mi va di incontrarli punterò subito a ovest e non ho tempo da perdere con delle cartine del cazzo ho bisogno di una serie di provinciali secondarie che mi portino sano e salvo attraverso il Vermont fino allo stato di New York avviserò Charlie le capiedi di occuparsene avviserò Charlie le capiedi di occuparsene devi spedire immediatamente un membro della tribù a est perché mi venga incontro e sarà meglio che si porti dietro qualcosa di forte per tenere buona la nostra piccola peste ho quasi finito la mia scorta controlla l'armamentario di Nocino ci sarà pure un non darmi ordini ribatte la donna seccata ci penserà le capiedi a coordinare tutto sai come andartene da lì? sì tesoro quel posto del picnic era una trappola la dannata mociosa ti ha giocati e se i suoi amici chiamassero la polizia sono al volante di un vecchio F-150 accanto a una coppia di zombie con rapitore stampato sono al volante di un vecchio F-50 accanto a una coppia di zombie con rapitore stampato sulla fronte nonostante la situazione papà Corvo stava sogghignando e allora la rifaccio sogghignando sì tesoro quel posto del picnic era una trappola la dannata mociosa ci ha giocati e se i suoi amici chiamassero la polizia sono al volante di un vecchio F-150 F-150 accanto a una coppia di zombie con rapitore stampato sulla fronte con rapitore stampato sulla fronte nonostante la situazione papà Corvo stava sogghignando e di gusto all'altro capo della comunicazione silenzio lui rimase in attesa nella rimessa degli stone se ti ritrovi un paio di lampeggianti blu alle spalle o un posto di blocco davanti al naso strozza la puttanella e succhiale via tutto il vapore che puoi mentre crepa disse alla fine Rose poi arrenditi ci penseremo noi a tirarti fuori dai guai toccò a Corvo a mutolirsi sei sicura che sia la soluzione migliore dolcezza? era sussurrato sei sei sicura che sia la soluzione migliore dolcezza? si decise a sussurrare si rispose la donna con un tono duro come la pietra lei è responsabile della morte di Pitagora nocino e serpente li piango tutti ma mi dispiace particolarmente perendi il suo cambiamento è stata opera mia e poi la poveretta non ha assaporato a fondo il nostro stile di vita per non parlare di seri la frase si spense in un sospiro non restava nulla da aggiungere Andy Stiner era stata con parecchie donne durante il primo periodo in compagnia del nodo non che fosse una sorpresa il vapore trasformava in novellini il vapore trasformava in novellini in veri allupati ma lei e Sarah Carter avevano fatto coppia fissa negli ultimi dieci anni senza alcun segno di cedimento in un certo senso Andy era sempre sembrata più la figlia di seri che la sua compagna zittina e affranta continuò Rose e su occhio pesto e su occhio pesto non si dà pace per nocino quella ragazzina dovrà scontare la colpa di averci sottrato i nostri cari comunque vada la sua vita da bifolca è finita altre domande? Corvo non ne aveva nessuna Pausa a pipì devo andare in bagno Neanche un'anima badò a papà e ai suoi passeggeri zombificati quando partorirono da Anniston diretti a ovest sulla vecchia statale del New Hampshire a parte qualche eccezione degna di nota il peggio erano i bambini e le vecchiette con la vista acuta i bifolchi a stelle e strisce a parte qualche eccezione degna di nota il peggio erano i bambini e le vecchiette con la vista acuta i bifolchi a stelle e strisce si distinguevano per la loro sconvolgente disattenzione persino nel dodicesimo anno dei secoli bui del terrorismo se vedi qualcosa di strano parla se vedi qualcosa di strano parla era un motto fantastico a patto di vedere qualcosa entrarono nel entrarono nel Vermont mentre calava la sera e gli automobilisti nella corsia opposta si accorsero solo dei fari di corvo che aveva preferito lasciare accesi gli abbaglianti Charlie Lecapiedi l'aveva già contattato tre volte informandolo sul tragitto per lo più erano strade secondarie alcune nemmeno indicate sulle cartine Lecapiedi l'aveva anche avvertito che Doug Gasolio, Phil Sozzone e Annie Grembiule si erano messi in viaggio su una Chevrolet Caprice del 2006 con la carrozzeria a pezzi ma 400 cavalli sotto ma 400 cavalli sotto il cofano i limiti di velocità i limiti di velo devo bere i limiti di velo sono io il problema non l'acqua i limiti di velocità non sarebbero stati un problema con loro avevano dei lasciapassare dell'agenzia per la sicurezza nazionale assolutamente perfetti grazie al povero Jimmy Pitagora